Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, qui per me in primis è una sorpresa, la bravissima Mirella D'Angelo che ti seguiamo da tantissimo e ti continuiamo a seguire. Grazie, grazie, grazie a tutti. Un saluto a tutti i tuoi fan. Io vi ringrazio tantissimo perché continuo ad avere delle conferme per tutti i lavori che io ho fatto con Camerbet di Sandokan, con D'Argento Tenebre, con Philippe Berrois, con tantissimi altri, Italia Manarmata e anche Caligola di Tinto Brasi. Insomma, io ho fatto dei film che rimangono nella storia e grazie a voi se ne avete mai scopro sempre cose nuove. Per esempio Caligola lo rimonteranno senza queste scene messe da Bob Bucciore. Per esempio ho scoperto che l'unica sigla che ha scritto Mia Martini è stata una società che ha un film sulla società e sui problemi della società che sono quasi distessi, che sono simili, forse oggi è un correggio, però lì già li tracciava moltissimi problemi di oggi. Quindi io vi ringrazio perché mi date sempre delle soddisfazioni grandissime e farò ancora delle cose bellissime. Ciao, arrivederci. Grazie e perciò seguitela. Ah, dimenticavo Fellini! Eh, grande maestro. Che maestro che ci riguarda da lassù. Grande maestro Fellini, che salutiamo anche lui. Ok, ciao ciao. Tu sei straordinaria, veramente. Grazie. E te lo meriti. Io ho una sorpresa. Essendo il salutatore ti devo, e non posso, ah, ah, da tenermi, da regalarti la manina del salutatore. Questa è quella speciale, così puoi salutare tutti i tuoi fan. Allora, saluti! Direttamente da Music Day. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.